E' pronta la lista per le regionali del Movimento 5 Stelle, 50 i candidati prescelti dal popolo di Internet, 27 uomini e 23 donne. Gli aspiranti deputati regionali indicheranno al loro interno il candidato governatore pentastellato col secondo turno delle cosiddette regionalie. In Puglia il primo è stato annullato la scorsa settimana a causa di problemi tecnici, votazioni multiple, ma anche per l'assenza di donne tra gli eletti. Non a caso alla cancellazione e alla ripetizione della selezione online, è seguito un appello sul blog lanciato da Grillo in persona sul rispetto della parità di genere. Questa volta tutto è filato liscio, gli elettori sono stati 3.404 ed hanno generato 12.729 preferenze. In base ai risultati per provincia i più suffragati sono Antonella Laricchia a Bari con 334 voti, Rosa Barone a Foggia 145, Luca Lopomo a Taranto 100 preferenze, Giuseppe Morelli a Brindisi 113, Cristian Casili a Lecce con 463 e Grazia di Bari nella BAT con 157. Grazie Grazie